Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale Allora, vi faccio vedere un po' cosa ho comprato e però non vi dico per cosa l'ho comprato Perché vai, guardate dove si scopri Allora abbiamo comprato questo che non c'entra un cavolo Che sarebbe montaggio kit professionale, colla di montaggio Questo è il mio ragazzo Non vuoi? Abbiamo comprato sempre la colla Però per i... dai metti la C'è ventola Insomma per i barbecue La cosa del frattare Ah è la cosa del frattare Per i barbecue Mamma mia Comunque poi abbiamo preso La cosa vuoi? Il solvente per il legno E questo è di color noce scuro Questo qua Per... Puoi usarlo per i capelli per la tina Scemo Perché non vai a farla in giratina? Poi abbiamo preso sempre lo stesso però di colore... Questo qua Avete? Noce chiave In colore c'è scritto Poi abbiamo preso le cerniere Altre cerniere per dei lavori in manzarda Altre cerniere però queste più piccoline Mi chiediamo e non mi ricordo I pennelli I pennelli? Mi veniva il nome scusa I pennelli Ah sono vestito come l'altro video Non perché non mi lavo Ma perché è lo stesso giorno Ok? E ci sono di... Di tre... Sì ma che se ne fai vedere No gliele devo far vedere Vabbè insomma Ci sono di tre cose Vedete Questo più grande Questo medio E questo più piccolino Per fare le cose più... Più... In profondità Poi E abbiamo speso queste ducadate Perché quello? Cosa? Ah Il pomellino Il pomellino Questo Questo qua marroncino Vabbè E poi abbiamo preso Intanto per questo Abbiamo speso 44 euro Due cose 44 euro Poi abbiamo preso Il terriccio Sempre da Brighomen A 3,90 euro E Tecnomat Vabbè Tecnomat No Non è Brighomen Ok Sì vabbè Però era quello Professional Ma sì con la torbia Con tutta Una puzza Una puzza In macchina Ma quella è? Con la torba Poi Siamo andati da Happy Casa Che invece Abbiamo comprato Questi bicchieri Qui Tipo un po' duretti Abbiamo comprato Questi vassovi Bianchi Questi qua E Saranno Per una cosa Un po' speciale Anche per questo Abbiamo comprato Tutta la finitura Per rimettere A nuovo Il giardino Io vi lascio così Provate a scrivere Nei commenti Che cosa ci sarà Di speciale Chi lo sa Non lo dice Quindi se lo sapete Non lo scrivete Ovviamente Se no Svilate l'arcano Insomma Queste sono le cosine Che abbiamo preso E basta Poi anche il terriccio Va bene E niente Anche per questo video È tutto Vi mando un bacio Grande grande E ci vediamo Da Tecnomat Ciao 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 Ciao